Ciao ragazzi qui è Marchettino e oggi parliamo dei costi di gestione della Ferrari Ragazzi oggi sono seduto a comodo nei sedili della 355 per affrontare una tematica che in tanti mi avete chiesto di portare sul canale e cioè i costi di gestione di questa Ferrari Ovviamente prima di fare questo video ho voluto far passare un po' di tempo per capire in prima persona quanto costa effettivamente utilizzare regolarmente una Ferrari 355 Ed è pazzesco perché il tempo vola, io questa macchina ce l'ho già da un anno La 355 l'ho acquistata la prima settimana di marzo però è arrivato subito il primo lockdown e non ho avuto l'occasione di utilizzarla per diversi mesi Infatti la macchina ha avuto l'occasione di tirarla fuori dal garage, filmarla e mostrarvela da maggio inoltrato Inoltre l'ex proprietario era italiano però la macchina l'aveva immatricolata in Lussemburgo quindi potete capire che targare questa macchina italiana è stata una cosa molto burocratica e frustrante E ad oggi ragazzi dopo circa un anno di utilizzo anche se effettivamente l'ho utilizzata di meno per questo motivo Oggi vi voglio parlare un po' dei costi di gestione di questa macchina Partiamo dalla prima voce di spesa cioè quella più importante, il prezzo d'acquisto A me piace tenere monitorato il mercato e ad oggi le quotazioni oscillano parecchio Però mediamente per comprare esemplari in buone condizioni il range di spesa va tra i 75 fino ai 90.000 euro Ovviamente si possono trovare esemplari anche a prezzi più bassi di quelli elencati Però probabilmente stiamo parlando di esemplari con molti chilometri, uno scarso storico di manutenzione E probabilmente con il cambio F1 che sulla 355 ahimè non è tanto desiderato Quindi ragazzi come vi ho detto la macchina l'ho dovuta ritargare Per targarla italiana ho speso circa 1800 euro E una cosa che non ho ancora capito è se effettivamente sulle auto usate ritargate va pagata l'ecotassa Penso che prima o poi lo scoprirò e se dovessi pagarla stiamo parlando di una botta di 2500 euro La cosa interessante di questa macchina è che ha superato i 20 anni di età e quindi qui non si paga il super bollo Sulla mia 355 ho conseguito il CRS cioè il certificato di rilevanza storica In questo caso il bollo regolare si riduce del 50% e stiamo parlando di una spesa annua di circa 600 euro Per quanto riguarda l'assicurazione beh io penso che il mio assicuratore mi vuole veramente bene E soprattutto non conosce il mio canale youtube perché su questa macchina pago una pollizza annuale di 600 euro Ironicamente questa macchina per quanto riguarda bollo assicurazione mi costa come l'S2000 E' assurdo Quindi ragazzi una volta affrontate tutte queste spese siete pronti per girare la chiave e iniziare a guidare la macchina Beh io dopo aver percorso appena due metri mi sono reso conto che il primo acquisto da fare era un nuovo treno di gomme Perché l'ex proprietario mi ha venduto questa macchina con un treno di gomme vecchie di 18 anni Questa macchina era semplicemente pericolosa da guidare Era come guidare perennemente su una lastra di ghiaccio Quindi ho comprato un nuovo treno di gomme stive Michelin che ho pagato 610 euro La cosa buona di questa macchina è che la misura delle gomme non è eccessiva e mostruosa come sulle Ferrari odierne Quindi un nuovo treno di gomme a circa 600 euro è una spesa più che sostenibile Ovviamente ragazzi vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram Perché lì mi piace pubblicare molto stories di cose che faccio in diretta, backstage Tutto quello che faccio con la 355 lo potete trovare tranquillamente lì Come avete visto dai vari contenuti, quest'inverno la macchina non l'ho lasciata ferma in garage Anzi, l'ho usata spesso e volentieri sulla neve Per fare tutto ciò ovviamente ho comprato un treno di gomme invernali, sempre Michelin Che ho pagato circa 530 euro E la domanda di rito che tutti mi fanno è Marco, ma quanto consumo la 355? Beh, obiettivamente i consumi non sono così estremi Ovvio che ogni volta che tiro fuori la macchina e la uso è veramente difficile andare piano e cambiare marcia sotto i 3000 giri Ogni volta che la guido mi piace sentire il motore urlare in zona rossa Quindi personalmente la mia media dei consumi si assesta sui 5 km al litro E dopo un anno e oltre 4000 km penso di aver speso una cosa come 1300 euro in benzina Diciamo che l'M3 92 era peggio sotto questo punto di vista Perché il motore era ancora più grande, la macchina era più pesante Quindi ogni volta che usavo l'M3 spendevo più soldi in benzina Quindi ragazzi, finora i costi per utilizzare regolarmente la Ferrari sono più che onesti Considerando che stiamo parlando comunque di una Ferrari Se avete in mente di comprare una 355 per me è molto importante considerare esemplari che hanno questo Quello che vedete è il libretto più importante della macchina Che è ovviamente il libretto di manutenzione Stando a quanto riportato dal piano di manutenzione Ferrari Ogni anno bisogna fare il classico tagliando che comprende la sostituzione di olio motore e filtro Oggettivamente è una cosa che non tutti i ferraristi fanno ogni anno Perché usano le macchine così poco che sì, effettivamente è un po' inutile fare questa operazione tutti gli anni In ogni caso io mi reputo molto fortunato di aver trovato questa 355 Perché stando a quanto riportato dallo storico di manutenzione che è piuttosto regolare Tutti i tagliandi e tutti i timbri sono ufficiali Ferrari E ciò vi permette non solo di rivendere la macchina con più facilità Ma potete chiedere anche qualcosina di più In ogni caso il classico tagliando olio e filtro ufficiale Ferrari Vi costa all'incirca tra le 900 e le 1000 euro Ovvio che se fate questa cosa in un'ufficina non ufficiale Ferrari Andate a spendere il 20-30% in meno Però come vi ho detto non avete il timbro Ferrari Che reputo essere molto importante Invece una voce di spesa piuttosto costosa Che riguarda la 355 E il mega tagliando che va fatto ogni 4 anni Quindi oltre al classico tagliando Una cosa molto importante che va fatta su questa macchina È la sostituzione della cinghia di distribuzione Io non so perché all'epoca gli ingegneri di Ferrari l'hanno progettata così Però per sostituire questa cinghia Va letteralmente tolto il motore dal suo vano di alloggiamento Quindi potete capire che fare questa operazione ufficialmente in Ferrari È piuttosto costosa E stiamo parlando di circa 6000 euro Ovviamente questa cifra può levitare Se per caso una volta fatto il motore I meccanici vi dicono Ah guardi c'è da sostituire anche questo Quel pezzo usurato Quindi lo sostituiamo Quindi questo mega tagliando vi costerà una barcata di soldi Però è molto importante Perché anche se non utilizzate la macchina Nel corso del tempo tende a usurarsi e a seccarsi E se si secca e si rompe Sostanzialmente buttatevi al motore E ahimè ho constatato che tante 355 inserzionate Non hanno fatto questo tipo di manutenzione da molti anni Quindi il mio consiglio è Cercate esemplari che hanno fatto questa manutenzione da poco tempo Io sono stato fortunato Perché l'ho comprata la macchina che aveva fatto questo tagliando da poco E su questa macchina sono a posto fino al 2023 Le grossi voci di spesa ahimè non sono finite qui Perché un difetto noto di questa macchina sono i collettori Purtroppo all'epoca Ferrari adottò sulla 355 Collettori che purtroppo nel tempo tendevano a usurarsi e a creparsi E se ciò cade ovviamente dovete sostituirli E una coppia di collettori nuovi vi verrà a costare all'incirca 5000 euro Ovviamente se comprate una macchina così Dovete per forza esaltare il sound di questo V8 E una linea di scarico completa Quindi dai collettori fino al terminale Vi costa ovviamente in base al materiale Tra i 10 e i 15 mila euro Però secondo me è una spesa che li vale Voglio dire sentite che sound Quindi anche qui ragazzi consiglio per l'acquisto Se volete comprare una di queste Magari tenete un occhio sugli esemplari Che hanno già i collettori sostituiti Perché il suo vi permetterà di risparmiare qualcosina Lo scarico completo è una bella spesa Però ovviamente è più una spesa di libidine che di necessità Finora abbiamo visto costi piuttosto accettabili Per essere nel mondo Ferrari La cosa che mi ha preoccupato di più Prima di comprare questa macchina O comunque entrare nella categoria supercar È l'imprevisto Perché se tutto va bene I costi di gestione sono piuttosto accettabili Invece se si inizia a rompere qualcosa Passare dal sogno all'incubo è un attimo Fortunatamente E mi incrocio le dita Qui è andato tutto bene Prima di comprare questa macchina L'ho fatta controllare in officina Era perfetta E quindi l'ho acquistata Però ovviamente se si dovesse rompere qualcosa Stiamo parlando comunque di pezzi di ricambio Manodopera Ferrari E trovarsi i conti con almeno 4 zeri È un attimo Io fortunatamente le uniche spese extra Che ho dovuto sostenere su questa macchina Era Se vi ricordate ho avuto una piccola perdita Del liquido servosterzo Ho portato la macchina in officina Ferrari E ho speso 130 euro Come sapete in questo momento Sto sistemando gli interni Per togliere l'infotainment E ho sostenuto già un po' di spese Ad esempio ho trovato la mascherina della radio L'ho pagata 200 euro Ho dovuto anche acquistare Un nuovo bottone Del tappo di apertura del carburante E l'orologio originale Li ho pagati circa 120 euro Mi manca solo la plastica del tunnel centrale Che me l'ha trovata Fabio Baldini La scuderia Baldini Che me la invierà a breve Ovviamente le voci di spesa non sono finite qui Perché nei prossimi mesi Ho intenzione di migliorare un po' le performance della macchina Ve l'ho detto Dopo averla provata in pista Mi sono reso conto che l'assetto è troppo molleggiante L'impianto frenante non frena a sufficienza Quindi a breve vedrete altri video di upgrade di questa macchina E ovviamente vi terrò aggiornato su tutte le varie spese Imprevisti Insomma ragazzi Con questa serie di video sulla Ferrari Vi voglio portare nel dettaglio con me Nel vivere questa esperienza Perché dopo tutto La prima Ferrari non si dimentica E quindi ragazzi Questo è quanto Vi ho riassunto un anno di utilizzo di Ferrari In questo video E ragazzi Se vi è piaciuto questo video Mettete like Iscrivetevi al canale se siete ancora fatto E come sempre Grazie per la visione Ciao Ciao